La prima eccellenza del design nel Lazio va dato a aziende, istituti, fondazioni, associazioni, università e scuole e designer che vivono e lavorano nel Lazio. I progetti che vedrete che tra poco saranno premiati vanno dal design per il sociale al design del lusso, dal food design al design per le neuroscienze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.